La morte non costituisce nulla per noi. Dal momento che il godere e il soffrire sono entrambi nel sentire, la morte altro non è che la sua assenza. L'esatta coscienza che la morte non significa nulla per noi rende godibile la mortalità e la vita. Senza l'inganno del tempo infinito che è indotto per il desiderio dell'immortalità. Non esiste nulla di terribile nella vita per chi davvero sappia che nulla c'è da temere nel non vivere più. E' sciocco che si sostiene di avere paura della morte, non tanto perché il suo arrivo lo farà soffrire, ma in quanto affligge la sua continua attesa. Ciò che una volta presente non ci dù, stoltamente attesto, ci fa impazzire. Grazie a tutti.